Quando corre nuvolare, quando passa nuvolare, la gente arriva in bucchio e si stende sui prati. Quando corre nuvolare, quando passa nuvolare, l'ho conservato come il più grande dei miei segreti. La gente aspetta il suo amico. Dopo più di 50 anni che ho tenuto nascosto il rifienile, voglio riportarlo a Mantua. Nuvolari è a 50 kg d'ossa, Nuvolari ha un corpo eccezionale. Nuvolari ha le mani come Artigli, Nuvolari ha un talismano contro i mali. Il suo sguardo è più falco per i figli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali. Era considerato il piloto più amato del mondo. Era fortissimo e lui che inventò la sbandata controllata. Questa è l'occasione della tua vita, quando ti più capri a di correre insieme a quella leggenda. La nostra età giornate come queste non tornano più Ferrari. Quando corrano i nuvolari mette paura perché il motore è veloce. La nostra età giornata è un'essobile. Grazie a tutti.